Buongiorno, oggi è domenica 9 settembre, la segna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio alto tesino, solo qualche nuvola innocua in transito e poi spazio al sole, identica situazione anche nella vicina provincia di Trento. In regia abbiamo Massimo Moro con il suo aiuto, andiamo a vedere innanzitutto quello che accade questa mattina intorno alle 6 e 30 a San Paolo di Appiano, vedete qualche nuvola all'orizzonte ma poi ci sono buone notizie. Con la grafica per capire che cosa ci dobbiamo aspettare con il passare delle ore, 28 gradi nel capoluogo a Bolzano, 27 a Merano, 27 gradi anche a Trento. Andiamo a vedere la situazione nella vicina provincia di Trento, 27 gradi nel capoluogo, 28 gradi a Riva del Garda, 23 gradi a Pinzolo, 22 gradi a Cavalese e 22 gradi anche a Fiera di Primiero. Come sempre le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, la stampa locale innanzitutto, il quotidiano Alto Adige, la cronaca nera, scippata anziana col girello, donna scende dall'auto in corso libertà e le porta via un bracciale. In Alto Adige un miliardo di evasione fiscale, lo studio da parte della Guardia di Finanza. Grande successo per la festa dello sport che ha invaso i prati del Talvera, oggi si replica. La cronaca a cura dell'inserto della domenica, Casa Bianca, i primi 18 mesi di Donald Trump sulla graticola del giornalista che con Bernstein svelò il caso Watergate. Il quotidiano, l'Adige per la cronaca dalla vicina provincia di Trento, cade dal sentiero in Muore in Val di Fassa, una turista di cuneo precipita per 80 metri. Lascia i fili in auto, è stata condannata, tutto questo accaduto a Pinzolo e poi grande festa, grande successo per la due giorni di emergency a Trento, Gino Strada protagonista della chiusura al teatro sociale. La cronaca per tornare ancora in provincia di Bolzano con il Corriere dell'Alto Adige. Emergenza, pronto soccorso, nuovo presidio con specialisti, codice bianco, ticket dal mese di gennaio. Doppio passaporto, il governo è diviso, il Movimento 5 Stelle dice di no, la Lega apre con Fontana ma il Carroccio Alto Tesino prende le distanze. Oggi e domenica troviamo in edicola il settimanale Z al posto del quotidiano Dolomiten per la cronaca in lingua tedesca, il successo di Gerhard Kirchbaumer in Svizzera per quanto riguarda la Coppa del Mondo di mountain bike, soprattutto di cross country, secondo posto, medaglia d'argento, la realizzazione di un sogno. Andiamo a livello nazionale con il Corriere della Sera, giudici la frenata di Salvini, nessun golpe dei magistrati, il pressing dei 5 Stelle. La Lega, fondi bloccati, protesteremo in Europa, per quanto riguarda il caso della nave di Ciotti, i PM vogliono sentire il vicepremiere. Oggi e domenica troviamo in edicola anche la Bildam Sontag per la cronaca che arriva dalla Germania, maggiore pressione fiscale in Germania e quindi più soldi a disposizione dello Stato e degli enti locali, che cosa chiedono i cittadini? Chiedono più sicurezza, chiedono più servizi in ambito sociale e sanitario. Il Sole 24 Ore manovra avvio graduale per le tre riforme del governo, flat tax, reddito di cittadinanza e pensioni, queste le priorità del Ministro Tria. Lifestyle, laureate, social e innovatrici, sempre più donne scelgono il lavoro del pastore, come si cambia vita anche in Italia. È tutto, andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano nei prossimi giorni. Dal 10 settembre riapere il ristorante First Season a Bolzano, il 14 Serie Ebel, hockey su ghiaccio protagonista con il Bolzano che ospita sul ghiaccio del Palaonda, il Graz. Dal 14 al 16 l'ottava festa della birra a Merano presso Forst. Dal 29 di settembre al 22 di ottobre il Capodanno birraio presso lo Schlosswirt della Forst con una serie di iniziative per celebrare la fine del raccolto. E poi la riapertura in questi giorni del ristorante Schwarz e Cazze, Schwarz e Cazze a Merano è tutto. Io vi ringrazio come sempre per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33.